Allora, qui c'è Shantotto sul cruscotto, vabbè, qua abbiamo comunque la multi gratuita, intanto faccio il free ticket, vediamo se... Niente. Siamo addirittura a 24, vabbè, allora sì, qualcuno effettivamente avrà visto la notifica. Oh, buono, una power stones. Va bene. Allora, ovviamente, che cosa dobbiamo dire oggi? Dobbiamo dire che Shantotto ha ricevuto la FR, mentre invece Ursula ha ricevuto la BT. Sinceramente mi fanno cagare entrambe, mi fanno cagare entrambe, sia di Shantotto che di Ursula. Tra l'altro Ursula è un personaggio che inizialmente mi piaceva, dopo non so cosa sia successo, a parte che è una waifu totale per me Ursula, quindi partiamo da questo presupposto. Detto questo, vediamo cosa ci dà la dea bendata. Ok, una orb dorata, vabbè, di questo banner non mi interessa niente, sinceramente. Perché non mi interessano né Ursula né Shantotto. Shantotto dovrei avere la BT addirittura. Solo che ovviamente non l'ho fatta verde, perché non l'ho fatta verde, per cui non mi interessa... Non mi interessa praticamente nulla. Eh, vediamo cosa succede per me con Seles. Vediamo. E le DT Saz addirittura. Bello. Saz completamente cestino. Bisogna assolutamente reworkarlo come se non ci fosse un domani, perché veramente Saz è inguardabile. Eh, scusatemi, non Seles, volevo dire Saz. Ho detto Seles forse per... Per Deja, per... Ah, sì, Deja Vu. Eh, così, per... Per istinto. Vediamo qui, orb dorata, che cos'è? Un X, un LD o... Eh, X di Eiko. X di Gladio addirittura. Va bene. Va bene così. Va bene, non è un problema. Eh, vediamo i Ticket Viola. Dai, vediamo. Altra orb dorata. Guarda, a me interesserebbero più che altro la FR o quello che è giusto per collezione. Non tanto perché mi interessa averle. Ho decine di personaggi migliori da poter utilizzare... Senza problemi, quindi. Altra X di Eiko. Donna Eiko. Ah, vabbè, LD di Ursula. Vabbè, ma io Ursula già ce l'ho completa. A me mancano soltanto le armi nuove, quindi o BT di Ursula o... Bella l'orba azzurra. Bellissimo l'orba azzurra. Madonna mia. Cioè, solo il garantito... Cioè, solo il garantito... Che è? Bellissimo. Veramente, veramente bellissimo. Vai, ultimo Ticket. Orgo dorato. Va bene. Non so neanche quanti Ticket ho al momento. Non mi ricordo neanche quanti Ticket ho al momento qui nella versione giapponese. Perché nel global ne ho utilizzati un casino per prendere Hope. Ne ho utilizzati 300, 350. Ecco, il dildo di Eiko. Doppio dildo di Eiko. Benissimo. Brava Eiko. Così stasera ti diverti. No, mi dissocio. Ah, 900. Va bene, ok. Allora, me li lascio belli freschi. Non ci sono altri banner che ovviamente mi interessano. Per cui possiamo andare a fare l'intersected di... Di Shantottina. Va bene, ragazzi. Allora, salutate YouTube. Se volete salutare YouTube. Perché le pull ovviamente le manderemo... Le manderemo sul canale domani. Ce le faccio uscire domani sul canale YouTube. Stiamo pullando su Seles per il global. Abbiamo pullato... Abbiamo pullato in Giappone. Ovviamente l'avete già visto. Però io faccio un piccolo recap. Perché magari qualcuno si è... Si è distratto. Ovviamente andiamo a pullare Seles. Sperando di non fare un altro piti. Dato che Mivu già è stato abbastanza cattivo con me. E mi ha fatto pitare la sua BT. Hop è stato un pochettino infame. Perché mi ha fatto utilizzare più di 350... No, 350 ticket in totale. Se non mi ricordo male. Però vabbè. Ragazzi, vediamo cosa succede. Allora, cominciamo... Malissimo. Allora, quanti ticket abbiamo? 342. Questi due ticket li buttiamo per il meme. Ok. Cancredi che... Completamente un cestino. Perfetto. Ovviamente... Per Seles vado di gemme. Dato che comunque i token non ce li ho. Anzi, aspetta. Fatemi vedere un attimo i tokens. Perché io ho trovato una BT in più di Mivu, eh? Attenzione. Perché non vorrei che... Allora, token quanti ne ho? 13. No, vabbè. Non ci arrivo. 13, anche vendendo... Eh, no. Arrivo a 38. Eh, non ci arrivo. Però, oddio, potrebbe essere buono perché forse ci arrivo per Sidrains con i token. Forse ci arrivo... Forse ci arrivo con i token su da Sidrains. Va bene. Buttiamo sti 40 ticket per il meme, dai. Vediamo cosa esce. Niente. 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 Ok. Va bene. Di Seles le armi in realtà ce le ho. Forse le LD non ce le ho. Vediamo. Le LD ce le ho? No, no, no. Manco le LD di Seles. Vabbè. Allora, gemme easy. Prima multi. Orba azzurra. Benissimo. Lo sarei dire. Molto bene. Lo sarei dire. Molto, molto bene. Matteo, al solito, molto fine. Molto educato. Bello, pacato. Easy. Easy. Madonna, quante dorate. Peccato che era orbo cestino. Ok. Orbo dorata. Caricamento è perché non ho scaricato niente. Quindi non credo che ci sia qualcosa. È perché non ho scaricato niente del global. Cioè, le di di tanto. Mamma mia. Oh, attenzione. 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 Vediamo se si nasconde la BT. Magari. Magari c'è la sorpresa. Magari c'è la sorpresa. Vediamo. 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 Potrebbe essere anche la BT in questo caso. Attenzione. Potrebbe anche essere la BT. Non ho visto però quante orbo siamo arrivati. Quindi questa forse è l'ultima. No. Solo la forza. Va bene. Ok. E già... E già sono contento perché anche se vado a PT so che ci posso andare a cuor leggero. Il problema adesso è che devo trovare anche l'LD. Devo trovare anche l'LD. Oddio. Va bene. Va bene. Va bene. High power stones risparmiate. Va benissimo. Va assolutamente benissimo. Vabbè ma mi accontento del PT LD rispetto a un PT BT eh. Cioè proprio... Il sondaggio non c'è bisogno qua perché non ha senso. Non ci sono due FR. E se poi metto FR o BT è troppo scammato. Perché è molto più probabile che sia FR piuttosto che la BT. Non ha senso. Orba azzurra. Vabbè già intanto sono quattro... Sono... Quattro high power stones in meno eh. Guarda mi accontenterei anche di fare i PT sulle LD sinceramente parlando. Piuttosto che andare a PT per la BT. Tra l'altro non ho manco le risorse forse per farla verde Seles eh. Allora usciamo. Facciamo un piccolo metodo geppino. Niente. Orba azzurra. Bene. Ok. Cambia adesso. No. Sì. Sì. Ok. Questa è la terza. È la terza force. Ok. Quindi con un'altra force e io sono a posto. Ok. Orba... Orba dorata. Tra l'altro mi deve... Mi deve anche uscire l'LD. Mi deve... Devo anche trovare l'LD. A meno che ce l'ho nell'inventario. Ma non l'ho maxata eh. Devo controllare dal coso del banner. Per vedere se ce l'ho nell'inventario o meno. Bella la ex di Eiko. Aspettate. Fatemi controllare se forse ce l'ho nell'inventario. No. Non ce l'ho. Ok. Non ce l'ho proprio neanche nell'inventario. Ok. Allora dobbiamo trovare anche l'LD. Va bene. Va bene. Vai. Ok. Orba dorata. Dai. Mi accontento. LD, BT... Una bella LD, BT... LBTQIPA+, come le categorie... LGBTQI+, tutto. Wow. No. La ex no. Oh. LD. Perfetto. Ci siamo. Ok. Va benissimo. Da questo momento in poi... Anche se vado a pity... Va bene. Ci posso andare con la... Cor повторio. Ok Ok Sono molto soddisfatto di queste pull Guarda se uscisse anche l'ultima FR Easy Eh possiamo tornare su Shantort Esatto anche perché Devo fare gli intersected E tutto per prendere le risorse Sono senza risorse per maxare Seles Quindi devo farmare anche sul global Probabilmente farmerò domani Ma domani mattina non ci sono forse quindi Domani pomeriggio veniamo Eccoci Ma oddio Sta regalando un sacco di gioie Allora siamo a 180 in realtà A 200 cos'è che posso prendere In realtà un cazzo posso prendere il libro Ma non è che mi serva più di tanto Dzie a tutti Ciao